Miss Moda Mare, un evento alla sua prima edizione di Luca Casieri e coordinato dalla Carmen Martorana Eventi. Un appuntamento con la bellezza per continuare a sognare e gustare uno spettacolo meraviglioso. A Barletta in giuria tanti volti noti, tra cui gli attori di talento Lia Cellammare, Alfredo Navarra e Cristian Binetti, oltre che il trasformista Gianni Lorusso. Tavolo tecnico chiamato a rintracciare la miss tra 14 bellissime ragazze in gara. Uno show voluto da Luca Casieri, blasonato hair stylist, avvezzo a lavorare con la bellezza e a sperimentare. Ed ecco che in tandem con la collega Cristina Vozza si è esibito in uno spettacolare hair fashion show. Una serata di insegni inoltre dello stile, complice alla presenza di abiti eleganti, firmati odri elegance e allestimento floreale di Nino Spera. A Barletta un defile sempre unico ed esclusivo per 14 bellezze speciali, un tripudio di fasce assegnato e confermare il valore dell'evento e delle incantevoli miss. A trionfare quale miss Modamare 2021 Giulia Montuori, 26enne, di Lucera. Una prima edizione che lascia presagire un proseguo felice e longevo per un contest che si è dimostrato di successo.